Torna Energicamente, il programma didattico di Estrele Gambiente, ora anche online per l'adesione delle scuole di ogni regione, giunto all'ottava edizione con la partecipazione di 17.000 alunni di elementari e medie. Energicamente e anche cucina, da quest'anno le famiglie concorrono fino al 30 aprile con una ricetta sostenibile che premia il risparmio energetico tra i fornelli e la limitazione degli sprechi alimentari. Alvia, la partnership per la mobilità sostenibile tra Estra e Atala, lo storico marchio di biciclette. La partnership prevede sconti per acquistare nei negozi Estra mountain e city bike elettriche a pedalata assistita. Un volume che fa storia, è la nuova edizione della Storia della città di Arezzo, dalle origini all'epoca contemporanea, curata da Luca Berti, edita dalla Società Storica Aretina e dal Corriere di Arezzo con Estra e Coingas.